La roulette russa, si poteva immaginare che Matteo Renzi avrebbe affrontato questa sfida della direzione del Partito Democratico con lo spirito di chi si gioca a un tavolo non soltanto la propria leadership ma un intero paese, come già era successo nel referendum costituzionale del 4 dicembre perso amaramente dallo stesso Matteo Renzi e quindi si poteva immaginare, questo era quello che era filtrato alla vigilia, che l'ex premier avrebbe affrontato questo fondamentale appuntamento mettendo in campo tutta la forza d'urto della sua capacità di sfida politica contro gli avversari interni ed esterni e dunque dimissioni da segretario del PD, congresso anticipato, una qualunque ipotesi di riforma elettorale e poi immediatamente voto anticipato a giugno o al massimo a settembre. Bene, non è andata così. Renzi esce come uno sconfitto che fa vedere di aver vinto anche questa partita dal confronto in direzione. È un Renzi che riconosce, e questo è senz'altro positivo, che c'è un principio di realtà che deve prevalere sulla sua voglia di rivincita. In che modo tutto questo si estrinseca? Su due piani. Il primo piano riguarda il Paese. Con il suo discorso di oggi, un discorso orgoglioso, pieno di stimoli anche culturali e politici, Renzi però riconosce che lo spazio per elezioni anticipate non c'è più, è venuto meno. La consorteria toscana che dominava il suo partito, il suo governo, la sua maggioranza, lascia il campo alla filiera democristiana, quella di Mattarella, di Gentiloni, di Franceschini, che da tempo gli dicono che in queste condizioni non si può andare a votare perché riconsegneremo il Paese alla ingovernabilità. Renzi in qualche modo ne prende atto. Parla del voto e dice che è una scelta che non compete a lui. Cita addirittura Giucas Casella, dando un tocco di colore a quella che comunque appare una seria oggettiva retromarcia politica. Dunque le elezioni anticipate non sono più nell'orizzonte della politica italiana. Si andrà, evidentemente, a meno che non succedano crisi di qualunque genere, alla scadenza naturale della legislatura nel 2018 e questo è il primo aspetto fondamentale. Il secondo aspetto fondamentale riguarda la sua leadership e il destino del Partito Democratico. Renzi non rovescia il tavolo, non si dimette da segretario, ripete soltanto che si farà il congresso e il congresso però si farà con ogni probabilità a scadenza naturale e cioè come era già previsto nel prossimo mese di novembre, quindi prima delle elezioni anticipate. Ma il congresso in questa chiave assume una forma molto diversa, non è più una sfida all'ok corral tra lui e il resto del mondo. Renzi la rilancia, la sfida ai suoi avversari interni e gli dice se avete proposte alternative fate via avanti, Emiliano, Speranza, Rossi o chi altro si vorrà presentare sulla scena. Per adesso tuttavia sulla scena rimane lui, si dedicherà nei prossimi mesi, così ha detto, a cercare di capire cosa succede nel Paese, intanto aggiunge una cosa vera, oggettiva, questa sì. Renzi dice mentre nel mondo siamo all'avvento dell'era Trump, siamo nel pieno della rivoluzione di Putin, nella tormenta dei Brexit, in Italia continuiamo a discutere di caminetti e di polizia vita. Questo è un dato di fatto oggettivo, gli italiani fanno fatica a capire quello che sta succedendo, anche perché gli italiani soffrono una crisi che non accenna a diminuire e in questo Renzi ha torto, rivendicando tutti i successi del suo governo che non ci sono stati. Dopodiché vedremo chi ha più filo da tessere di qui al 2018. Certo è che nel frattempo Renzi comunque ha una grande responsabilità, dovrà indicare una via d'uscita da questa palude italiana, perché in questa palude italiana, nonostante la sua energia, la sua buona volontà, è lui che ci ha condotto, quindi tocca a lui indicare qual è uno sbocco possibile.